Musica Nelle intenzioni del sindaco di Genova Marco Bucci c'è la fusione tra ATP e AMT per un'unica azienda metropolitana di trasporto pubblico locale, l'idea espressa oggi ai sindacati incontrati a Palazzo Tursi. In dirittura d'arrivo i lavori per l'interconnessione degli acquedotti di Casarza Ligure e Sestri Levante, posata la tubatura interrata, l'intervento si concluderà entro l'estate con la riqualificazione delle piste ciclabili. Il Papa introduce l'offerta della vita, quale nuova via per la beatificazione, è simile al martirio ma non c'è un persecutore che voglia imporre la scelta contro Cristo, diffuso oggi il motu proprio di Francesco. Il Vangelo è un annuncio di gioia, non un peso insopportabile. Il Vescovo ha celebrato la festa di San Siro a Santa Margherita Ligure con l'auspicio che tutti i pastori portino la speranza indicata da Gesù. 40 anni di attività al servizio delle vocazioni sacerdotali e religiose, Francesco Baratta è stato premiato alla Convention del Serra International, consegnato al Papa il volume Preti in Paradiso. Si rafforza il legame tra l'Associazione Arma Aeronautica del Tiguglio e il Villaggio del Ragazzo, donate due sedie per doccia all'area disabilità del centro Benedetto Acquarone. Festeggiati i vent'anni del trofeo Cuore d'Oro al Golf di Rapallo, applausi per lo spettacolo di Franco Fasano, toccante incontro con i genitori di una promessa del golf scomparsa in giovane età. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi si è svolto nel pomeriggio a Genova il primo incontro tra il neosindaco della città Marco Bucci e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo c'era la questione di AMT ma si è parlato anche di ATP. Scopriamo il perché. Un'unica azienda del trasporto pubblico locale per il bacino della città metropolitana di Genova, arrivando nel lungo periodo alla fusione tra AMT, Genova Parcheggi e ATP. E' una delle intenzioni del neosindaco del capoluogo Ligure Marco Bucci, messa sul tavolo nell'incontro il primo del nuovo primo cittadino genovese con le organizzazioni sindacali. Un percorso che andrà definito nei modi e nelle forme ma che segna un obiettivo già in testa della nuova amministrazione comunale e metropolitana. L'intenzione è quella di arrivare a una fusione delle due aziende di trasporto pubblico e della società che gestisce i parcheggi a Genova per creare un'unica azienda in house con proprietà pubblica e della mobilità. Bucci avrebbe poi confermato la volontà di non andare a gara per ATP. Sicuramente una delle prossime pagine da affrontare legate all'azienda di trasporti provinciali sarà quella dell'assetto azionario. Alla luce della sentenza definitiva con la quale l'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha decretato la non regolarità del passaggio di quote avvenuto nel 2016 tra SMC e autoguidovie, confermando il primo pronunciamento con il quale aveva escluso quest'ultima dal consiglio di amministrazione di ATP-SRL. ANAC ci ha dato ragione, però in quest'anno naturalmente i milanesi hanno governato l'azienda facendo forse più danni che altro. Ora si tratta di capire cosa vorrà fare soprattutto a questo punto autoguidovie perché il pallino passa da autoguidovie al socio pubblico per capire se autoguidovie vuole rimanere dentro ATP o vendere il pacchetto di ATP sapendo che a queste condizioni solo ATP-SPA, cioè il socio pubblico può acquistare le azioni. L'altro dato, sempre dettato dalla delibera di ANAC è che comunque con questo aspetto ATP può partecipare alla fattura a gara, ma abbiamo scoperto oggi che Bucci non vuole andare a gara. Vedremo quali saranno gli effetti, come si incroceranno con le decisioni del nuovo sindaco. Naturalmente per arrivare a quello che ci ha detto oggi il sindaco, cioè arrivare a un'azienda pubblica, bisogna che si compri le azioni di autoguidovie in ATP-SRL. La palazzina dell'SPDC di Lavagna, vale a dire la struttura psichiatrica di diagnosi e cura, è ancora inutilizzata per problemi di ordine tecnico-amministrativo. A dirlo oggi in Consiglio regionale, l'assessore Sonia Viale rispondendo ad un'interrogazione di Luca Garibaldi che chiedeva lumi sul ritardo del trasferimento del reparto e del mancato utilizzo dell'ala del quarto piano del polo ospedaliero lavagnese per ora a deposito di materiale sanitario. Secondo la Viale i problemi sarebbero scatturiti da un'imprecisa istruzione delle pratiche effettuate in precedenza che richiedono una tempestiva presa in carico di concetto tra i competenti uffici di Comune di Lavagna, Regione e ASL. Dopo l'adeguata e complessa istruttoria, a concluso la Viale, si sta divenendo alla soluzione definitiva che si auspica possa concludersi entro i prossimi mesi estivi. Albergatori e ristoratori di Lavagna uniscono le forze per rilanciare la promozione del territorio a dispetto dello stallo amministrativo in cui versa la città. E' questo il senso della partnership stretta dall'Associazione degli Albergatori di Lavagna e Cavi e dall'Associazione Ristoratori e Bar di Lavagna, quest'ultima assistita da Confesercenti Tigulio con Liguria Together, soggetto presieduto da Francesco Andreoli che raggruppa numerosi operatori del Tigulio nel campo ricettivo e turistico. Il primo atto di questa nuova sinergia sarà la partecipazione dei 20 alberghi e dei 30 pubblici esercizi associati ad alcune tra le più importanti fiere del settore, a cominciare dalla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini in programma dal 12 al 14 di ottobre. A Rimini gli operatori lavagnesi saranno presenti con tutte le eccellenze del territorio, dell'ambiente, all'accoglienza, all'agroalimentare, spiegano Giuseppe Valenzano e Attilio Schiaffino, presidenti rispettivamente dell'Associazione dei Ristoratori e di quella degli Albergatori, che ringraziano i colleghi di Sestri Levante per l'invito formulato a partecipare. Rimanendo a Lavagna, martedì 18 luglio si terrà un corteo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di Marina Sporting. L'idea è di un gruppo di cittadini che da tempo sui social network stanno denunciando le cattive condizioni in cui versa la città. Di recente hanno incontrato il commissario Paolo Dattilio, mentre ieri sera hanno parlato con i soci del Marina Sporting complesso nel cuore del porto, che nei giorni scorsi avrebbe dovuto chiudere per irregolarità riscontrate dai ripetuti controlli della municipale. Per chi fosse interessato, il corteo partirà dal Marina Sporting alle 18 di martedì per finire davanti al Comune in Piazza della Libertà. E ora cambiamo tema, andiamo a Casarza Ligure dove stanno per concludersi i lavori di interconnessione dell'acquedotto comunale con quello di Sestri Levante, nello specifico con il pozzo di via Sara 1. Vediamo. Si stanno concludendo i lavori di allacciamento con il pozzo di via Sara 1, siamo arrivati praticamente qui all'imbocco dove partirà il tubo che collegherà poi la nuova condotta idrica. Siamo in località qui a Casarza, vicino al Ponte Vecchio, dove c'è proprio l'allaccio con il vecchio tubo del pozzo di case nuove. Qui stanno ultimando i lavori anche di rifacimento del marciapiede che è stato momentaneamente rotto per poterci far passare il tubo. È un lavoro cospicuo, è un investimento di quasi 800 mila euro fatto da Lato, quindi l'Unione di Comuni della provincia di Genova, ha dato mandato alla società acqua potabile, alla SAP, di realizzare questo intervento. Per Casarza è importantissimo perché finalmente avremo una fonte alternativa di approvvigionamento idrico. Ricordiamo che è un intervento che se fosse già stato funzionante nel 2015 avrebbe evitato i problemi dovuti all'inquinamento di una falda. Certo, perché avremmo avuto la possibilità di collegarci con un'altra fonte di approvvigionamento, per cui in quel momento lì abbiamo visto quanto è importante avere la possibilità di attingere l'acqua in più fonti, quindi finalmente Casarza dopo 60 anni avrà la possibilità di avere un'altra fonte. Completato si può dire l'intervento sotterraneo con la posa delle tubazioni, si stanno completando i marciapiedi, resta da riqualificare comunque la pista ciclabile che faceva parte questo del intervento complessivo. Sì, certo. Abbiamo chiesto alla società acquapottabile, con lei che ha dato l'appalto dei lavori, di sistemare il tratto di pista ciclabile interessato dei lavori, che è quello che va proprio da qui, davanti al Ponte Vecchio, dalle scuole elementari, fino al confine con Francolano. Ci sarà una sistemazione, una manutenzione della pista ordinaria, quindi non chiediamo che venga rifatta, ma chiediamo che venga riqualificata e sistemata nei punti dove è stata attraversata dal bypass. Quando si vedrà la fine dei lavori e tutto ritornerà alla normalità? Sì, io contiamo entro la fine dell'estate per settembre di riavere tutto al tratto libero e quindi di tornare alla piena normalità. Sono stati ben 7.270 i candidati che si sono presentati questa mattina alla Fiera di Genova per partecipare alla prima prova del concorsone per infermieri voluto dalla regione dopo anni di blocco delle assunzioni. Gli iscritti erano stati oltre 12.400. Alla prova odierna seguiranno una prova scritta e una pratica e infine la discussione orale. Entro la fine dell'anno si potrà procedere con le prime 100 assunzioni nelle 5 ASL della Liguria. La cronaca, 8 persone denunciate dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, nei guai 2 stranieri di 25 e 20 anni per ricettazione in quanto trovati in possesso di vari capi di abbigliamento, risultati rubati poco prima a Rapallo. Altri 3 stranieri, tutti con precedenti, sono stati scoperti senza documenti e quindi deferiti per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Poi un minorenne e un 22enne italiani, tutti con precedenti e residenti a Pinerolo, sono stati trovati in possesso di 36 grammi di marijuana già confezionate in dosi e questo è avvenuto al termine della perquisizione personale e domiciliare. Nello stesso contesto, un 31enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria poiché è in possesso di una modica quantità di marijuana. E siamo così all'informazione religiosa. È stato diffuso oggi il motu proprio del Papa, con il quale Francesco introduce l'offerta della vita a quale nuova via per la beatificazione. È simile al martirio ma non c'è un persecutore che voglia imporre la scelta contro Cristo. Sentiamo l'intervista della Radio Vaticana. L'offerta della vita diventa una nuova, cioè una terza fattispecie, finora inedita, dell'iter di beatificazione e canonizzazione e si distingue dalle altre due fattispecie tradizionali che sono il martirio e l'eroicità della vita e delle virtù. Quali sono appunto i criteri? Sono cinque. Il primo e il secondo vi sembrano i più rilevanti. Deve trattarsi di un'offerta libera e volontaria della vita e di eroica accettazione, propter caritatem, bisogna sottolineare questo, per la carità, per l'amore di Dio e del prossimo, di una morte certa e a breve termine. E deve esserci un nesso, questa è la seconda condizione, deve esserci un nesso tra l'offerta della vita e la morte prematura. Nel caso dell'offerta della vita è richiesto comunque il miracolo sia per la beatificazione che per la canonizzazione? Esattamente. Necessità del miracolo sia per la beatificazione e poi per la canonizzazione e naturalmente il miracolo deve essere avvenuto dopo la morte del servo di Dio e per sua intercessione dimostrata. Ci può fare qualche esempio di circostanze in cui potrebbe avvenire appunto questa offerta della vita. Questa terza via consente di risolvere molti casi ambigui perché qui non c'è bisogno per esempio che ci sia un persecutore, non c'è bisogno che ci sia l'odium fidei, soprattutto non c'è bisogno che ci sia l'effusio sanguinis. Basta invece dimostrare, e questo è l'essenziale, questo nesso profondo tra una offerta della propria vita e una morte prematura e accettata per amore di Dio e dei fratelli. E ora veniamo in Diocesi. La parrocchia di San Siro a Santa Margherita Ligure ha festeggiato il titolare. Il Vescovo ha presieduto la Messa Solenne. La sintesi nel servizio. Il Vangelo è un annuncio di gioia, non un peso insopportabile. Nella Messa presieduta a Santa Margherita Ligure per la festa di San Siro, il Vescovo ha invitato a considerare l'invito di Gesù a seguirlo non come un gioco o una prescrizione faticosa. Spesso il partecipare alla Messa è vissuto come un peso, ha sottolineato Monsignor Tanasini, eppure l'unico vero peso è quello dell'amore che il Signore ha per gli uomini. Le parole di Gesù sono di sostegno e di aiuto, certo sono anche esigenti, ma segnati dall'amore. Non è pesante per i genitori occuparsi dei figli, ha spiegato il Vescovo, non è pesante occuparsi degli amici o prendersi cura di chi ci sta accanto se guidati dal voler bene. L'esortazione di Monsignor Tanasini è dunque quella di lasciarsi toccare dalla parola di Gesù in una società che sembra sempre più autosufficiente e indifferente al Vangelo e a farsi come i più piccoli che davvero sanno attendere che qualcuno entri nella loro vita e così si aprono alla paternità di Dio. La celebrazione del Vescovo ha concluso il percorso di preparazione della comunità di San Siro che in occasione della novena ha riflettuto con incontri e testimonianze sulle cinque parole consegnate a Firenze dal Papa alla Chiesa Italiana. Nella città di Santa Margherita prosegue il cammino di comunione, da quest'anno è iniziato il Consiglio Pastorale Cittadino, come sta proseguendo questo cammino? Abbiamo iniziato da quest'anno il cammino del Consiglio Pastorale Cittadino, abbiamo iniziato i tavoli di lavoro e il cammino prosegue bene rafforzati in questo momento dalle nostre feste che sono l'occasione per ritrovarci tutti insieme. San Siro apre un po' il tempo delle feste e poi ci sarà Santa Margherita, ci sarà la Madonna della Lettera, quindi da questo punto di vista è un cammino di unità che prosegue. Un cammino di unità, ma interessante i richiami che i Santi ci fanno. San Siro un pastore, Santa Margherita una martire, ecco il martiri oggi che è la via della testimonianza, e la nostra Signora della Lettera, Maria, che ci riconsegna quella lettera importante che è il Signore Gesù. Nell'ambito della 75esima Convention del Serra International che quest'anno è stata ospitata a Roma, è stato assegnato un riconoscimento per i 40 anni di attività a Francesco Baratta. Baratta, di Sesti Levante, collaboratore della Curia di Chiavari, 84 anni compiuti nell'imminenza del premio, ha partecipato alle quattro giornate di Convention che hanno avuto come momento centrale l'incontro con il Papa. Vediamo. SIEMPRE ADELANTE IL CORAGGIO DELLA VOCAZIONE Un motto che diventa una missione per i componenti del Serra International, unico movimento nel mondo formato da laici impegnati nel sostegno alle vocazioni sacerdotali e alle vite consacrate. I rappresentanti provenienti da 13 nazioni sparsi in tutto il mondo si sono riuniti a Roma in occasione della 75esima Convention del Serra International. Quattro giornate intense di incontri e scambi di esperienze che hanno avuto come momento centrale l'udienza con Papa Francesco. Il Pontefice, prendendo spunto dall'espressione di saluto rivolto dal presidente del Serra International, Dante Vannini, si è soffermato sul tema dell'amicizia, definendo il Serra Club come un luogo in cui cresce una bella vocazione, essere laici, amici dei preti. Accanto a questo l'impegno sempre adelante, sempre avanti. Prendendo a riferimento la figura di San Junipero Serra, missionario spagnolo canonizzato da Francesco nel settembre 2015, il Papa ha incoraggiato i presenti a procedere nel cammino. San Junipero, benché zoppicante, con ostinazione proseguì nel suo viaggio verso San Diego per piantarvi la croce. Così deve essere il cammino del cristiano. E' meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo, ma confidando sempre nella misericordia di Dio che essere cristiani da museo. In occasione dell'udienza è stato consegnato al Santo Padre il libro Preti in Paradiso, sillogio di scritti, in cui si raccontano i tratti umani e spirituali di cinque preti, Don Nando, Don Gibi Campodonico, Don Lavagnino, Don Luciano Serra e Don Marcello Botto. Il volume è stato curato da Francesco Baratta, presente all'incontro con il Santo Padre, e premiato il giorno successivo nell'ambito del banchetto annuale per i suoi 40 anni di attività serrana. Un particolare riconoscimento per aver assunto, per incarico dell'Arcivescovo Angelo Bagnasco, la presidenza della Fondazione Junipero Serra nel 2008, in un momento di forte difficoltà, ed averla traghettata per un biennio, donandole nuovo slancio e vitalità e favorendo la ripresa del cammino sempre adelante. Anche i volontari del soccorso di Sesti Levante lanciano un'iniziativa di solidarietà per allestire un mezzo per il trasporto di persone disabili. La pubblica assistenza chiede la partecipazione delle attività commerciali del territorio, le quali, con l'acquisto di una sponsorizzazione, potranno fare in modo che venga dato, incomodato d'uso gratuito, un Fiat Doblò dotato di elevatore idraulico omologato a norma di legge per sedie a rotelle e quindi utilizzabile per il trasporto di un massimo di quattro passeggeri, oltre all'autista. Le attività economiche che fossero interessate ad aderire al progetto possono contattare il numero verde gratuito istituito appositamente per questa iniziativa e che è 800-236-482. Momento di festa questa mattina al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. I soci dell'arma aeronautica hanno portato in dono agli ospiti dell'area disabilità due nuove seggiole per doccia. Un gesto concreto che rafforza il legame tra la realtà del villaggio del ragazzo e la sezione Tiguglio-Rapallo dell'associazione. Vediamo. Due sedie da doccia per l'area disabilità del centro Benedetto Acquarone, ma soprattutto un legame che si rafforza a quello tra il centro di Chiavari, del villaggio del ragazzo, e la sezione Tiguglio-Rapallo dell'associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, che ha voluto rispondere così in modo concreto ad un bisogno espresso dagli ospiti della struttura. Ci ha fatto piacere dare in donazione queste due sedie che la segreteria e la direzione di Acquarone ci ha chiesto e ci ha fatto molto piacere perché poi in più stamattina ci avete fatto anche visitare questo bel centro e noi siamo rimasti contenti e anche i nostri soci so che sono contenti di aver dato questa oblazione di queste due sedie. Questa mattina la cerimonia di consegna si è trasformata in un incontro affettuoso e cordiale preceduta dalla visita al centro durante la quale i responsabili dell'associazione hanno potuto toccare con mano i servizi e il lavoro svolto dal centro voluto da Don Nando Negri. Questa mattina ho potuto constatare il grande impegno che si è assunto alla struttura del centro per portare avanti un'attività che è molteplice in molti settori dedicata ai giovani, ai bambini, agli anziani e toccare con mano quelle che sono queste realtà e come viene portata avanti da questo centro è stato veramente un grande piacere per cui ringrazio il Presidente Nicola Allegretto della sezione Altiguglio per aver dato l'opportunità a me di conoscere il centro e di poter capire che la nostra posizione come associazione d'arma aeronautica rivolta al sociale è importante perché anche un piccolo aiuto può portare un sorriso. A Sestri Levante è pronta la risistemazione del Parco di Santa Vittoria in questi giorni sono stati ultimati gli interventi di riparazione delle sedute circolari in mattoni e di ripristino di alcuni giochi per i bambini è stato riverniciato il cancello d'ingresso sono state riparate le panchine ed è stato confinato il rudere vicino al parco per una maggiore sicurezza a breve saranno installate ulteriori tre panchine a tutto ciò fa sapere l'amministrazione comunale con un comunicato seguirà l'ampliamento del Parco Mandela dopo l'estate sarà possibile usufruire del percorso avventura sugli alberi della pista per le biciclette e a fine anno dello spazio dedicato all'atletica e ai concerti con un'area riservata agli arcieri del Tiguglio Cambiamo tema e parliamo del trofeo Cuore d'Oro sono stati festeggiati 20 anni di questa iniziativa al Circolo Golf e Tennis di Rapallo due le serate che hanno unito musica a momenti di riflessione oggi vi raccontiamo lo spettacolo con il coro Mani Libere Jacopo Cioni e Franco Fasano immagini e interviste saranno trasmesse questa sera nella rubrica Si può dare di più ne vediamo un'anticipazione una bellissima gara che ha dato veramente tante emozioni e tanto aiuto soprattutto negli anni all'associazione genitori ragazzi non vedenti prima all'unione italiana ciechi e poi vedenti poi e come ogni anno si cerca di abbinare la gara di golf a una serata musicale un po' particolare ogni anno abbiamo avuto degli ospiti importanti da Bruno Lauzi a Gatto Panceri e quest'anno secondo me ci siamo superati perché tra il coro di Mani Libere Jacopo Cioni soprattutto oggi è stato Franco Fasano che ha dato veramente a uno spettacolo unico nel suo genere Sono vent'anni in cui naturalmente come dice la parola stessa sono successe tante cose e soprattutto questo palco ha dato un modo di raccontare tante storie tante esperienze di vita diverse e ogni anno esce fuori qualche cosa di particolare qualche spunto nuovo era stato un momento secondo me bellissimo in cui si è incontrato tutti i giovani del circolo golf e tennis rapallo per raccontare la storia di Teodoro che era un ragazzo che ha vinto tutto a livello giovanile dal punto di vista golfistico era in assoluto la più grande promessa del golf internazionale italiano purtroppo un male l'ha portato via in pochissimi giorni e la meravigliosa testimonianza della madre che cerca di portare un messaggio ai giovani comunque di positività nonostante il dramma vissuto ha aperto veramente questi due giorni di sensibilizzazione nel modo migliore possibile sono piccoli problemi di cuore dove un bacio ruba e qualcosa di più fa sognare frepidare ricordo dunque l'appuntamento con il si può dare di più questa sera alle 21.10 su Telepace 1 canale 15 ora la scheda degli appuntamenti appuntamenti in agenda per mercoledì 12 luglio è aperto al pubblico il Museo Dio Cesano di Chiavari dalle 10 alle 12 negli spazi della Curia Vescovilla in piazza nostra Signore dell'Orto presentazione del libro il rumore delle parole di Gabriella Chiavari in cui si narrano gli eventi dalla liberazione alla dolce vita dal punto di vista della scrittrice l'inizio alle 18 il Gran Caffè di Fila di Chiavari undicesima edizione della Grande Festa delle Fisarmoniche in onore di Mario Righetti premio alla carriera di fisarmonicista la serata inizierà alle 21 nell'area verde Pertini di Conscienti Ane messa in scena dell'Aulularia di Plauto commedia sul tema dell'Avarizia estrema con adattamento di Mario Marchi lo spettacolo in programma alle 21.15 in piazza San Matteo a Genova a Moneglia 36esima edizione dell'evento musicale Tesori di Liguria Moneglia Classica organizzato dall'Associazione Musicale Felice Romani in collaborazione con la parrocchia di Santa Croce e la Proloco appuntamento alle 21.15 nell'oratorio dei disciplinanti primo appuntamento del XIX Festival Organistico Internazionale dal titolo Armonie Sacre percorrendo le terre della Liguria il concerto in collaborazione con il 54esimo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo inizia alle 21.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a Cervo in provincia d'Imperia Sulla passeggiata a mare di Santa Margherita Ligure nel tratto tra Ghiaia e Giardini a Mare questa mattina si è provveduto a sostituire circa 300 metri del red carpet che da diverse settimane sta unendo simbolicamente Rapallo a Portofino per la sua manutenzione i tre comuni insieme hanno assegnato l'appalto ad una squadra che monitora, ripara e sostituisce le parti ammalorate per quanto riguarda invece il tratto di competenza del comune di Santa Margherita Ligure per la cura del tappeto rosso dei record a breve sarà utilizzato anche uno speciale aspiratore su ruote è quello che state vedendo nella foto è un macchinario di nuova generazione di proprietà della Dox Lanterna società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti l'impiego di questo mezzo non avrà costi aggiuntivi per l'amministrazione e siamo così allo sport iniziamo dal calcio la Serie B la Virtus Entella ha acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi di Michele Currarino attaccante nato a Levanto classe 1992 per il giovane calciatore cresciuto nel vivaio bianco celeste si tratta di un ritorno a casa dopo le ultime sei stagioni disputate tra le file della Lavagnese la società comunica inoltre di aver acquisito a titolo definitivo i diritti del calciatore Samuele Massolo portiere nato il 4 maggio 1996 cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria ha militato nell'ultima stagione in Serie D nella Sanremese intanto venerdì 14 luglio con lo slogan Lentella siamo tutti prenderà il via la nuova campagna abbonamenti della Virtus Entella per la stagione 2017-18 con l'ormai classico Open Day dalle 17 alle 19 a Lentella Point si potrà esercitare il diritto di predazione del posto il giorno stesso 14 luglio e successivamente dal 17 al 29 dal 31 luglio al 2 agosto si potrà cambiare il settore o il posto mentre dal 7 di agosto sino al 2 settembre sarà attiva la vendita libera l'abbonamento potrà poi essere sottoscritto sempre a Lentella Point che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30 Al lago di Giacopiane infine si è svolta una delle prove del campionato provinciale individuale 2017 di pesca al colpo vale a dire una specialità dove si usano i galleggianti primo posto assoluto per Umberto Righi secondo Alessio Alessiani terzo Rinaldo Superchi tutti e tre della FIMA Chiavari entro fine mese si disputeranno altre due prove nel lago Curadi di La Spezia da cui emergerà il nome dell'atleta promosso agli italiani colpo 2018 nella stessa occasione si è svolto il torneo sociale colpo della FIMA ancora primo Umberto Righi che avete visto nella foto secondo Rinaldo Superchi terzo Enrico Bott siamo in conclusione di Telegiornale vi ricordo a seguire l'appuntamento con il Si può dare di più per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com grazie per l'attenzione buon proseguimento di serata www.teleradiopace.com